Anche Pescara risponde all'appello, cambia la Grecia, cambia l'Europa. Venerdì 3 luglio, in contemporanea in tutta l'Unione Europea, si svolgerà una fiaccolata. Il corteo partirà alle 21 dal ponte del mare per raggiungere la nave di Cascella. Alla manifestazione hanno aderito partiti, sindacati, associazioni e movimenti. Il governo greco ha ragione, ha detto in conferenza stampa l'ex consigliere regionale di rifondazione comunista Maurizio Cerbo, perché la politica imposta dal Fondo Monetario Internazionale, dagli altri governi dell'Unione Europea e dalla Banca Centrale Europea sta producendo soltanto l'aumento della disoccupazione, la privatizzazione di tutti i beni comuni, la precarizzazione del lavoro e lo smantellamento dello Stato sociale. Per Cerbo il governo di Tsipras è l'unico in Europa che prova a fare una politica diversa e l'Unione Europea sta attuando delle misure di terrorismo finanziario nei confronti del popolo greco per bloccare la possibilità di un cambiamento in tutta Europa. Venerdì in tutta Europa si manifesterà a sostegno del popolo greco e del governo di Alexis Tsipras, avendo ben chiaro una cosa, che in questo momento la Grecia lotta per tutti noi, per tutti i popoli europei, perché le conseguenze delle politiche di tutti gli altri governi allineati con la finanza internazionale stanno impoverendo tutti i popoli d'Europa, dai ceti medi agli operai, dai lavoratori autonomi ai precari ai pensionati. Contro queste politiche il governo Tsipras è il primo che dice non vogliamo proseguire, non vogliamo svendere tutta la Grecia alle privatizzazioni, non vogliamo eliminare i contratti nazionali del lavoro, non vogliamo fare altri tagli alla spesa pubblica e al sociale e alla sanità perché c'è un'emergenza umanitaria. A fronte di questo, di un governo che per la prima volta fa cose a favore del proprio popolo e che soprattutto gli dà la possibilità di decidere attraverso una scelta democratica come quella del referendum, gli altri governi europei e il Fondo Monetario Internazionale stanno facendo un vero e proprio terrorismo finanziario la cui prima conseguenza è stata la chiusura degli sportelli delle banche. La CGL, ha sottolineato in conferenza stampa Emilia Di Matteo, segretario provinciale CGL Pescara, sarà in piazza anche in questa occasione. L'Europa ha detto deve riaprire le trattative perché non si può lasciare il popolo greco in una situazione economica così drammatica. che danno respiro e ridanno sviluppo alla nostra nazione altrimenti anche noi rappresentate Maurizio dicono anche le adesioni di Finitra Lavoro Francesca Prede l'Otri di Finitra Lavoro Francesca Prede